Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Buonasera. La perturbazione... La domanda è più semplice o più complessa, chi è Tommaso e chi sono i perturbazioni? Tommaso è un ragazzone di 48 anni ormai che ancora non sa mica bene cosa farà da grande, ho fatto mille cose, soprattutto ho fatto il cantante dei perturbazioni, per fortuna grazie a questo gruppo di amici che si è incontrato al liceo e che si è incontrato attraverso la musica, nel senso che poi le cassette, gli ascolti, tra di noi, delle varie classi che ci frequentavamo, sia la nostra che altre classi di Mitrofe, il punto d'incontro, il modo di incontrarsi, di uscire ciascuno dalla propria solitudine, che poi è uno stato dell'anima abbastanza adolescenziale, in quegli anni era proprio parlarsi di canzoni, trovare un mondo attraverso quelle cose lì, e quindi U2, i Cure, i Rem, Bob Marley, i Clash, il punk, il post-punk, eccetera, e tutti i cantautori italiani, i nostri genitori, mano a mano poi riscoperti, tutti quelli sono stati i nostri territori di incontro. Allora non c'era l'MP3, non c'era il CD, c'erano le cassette, c'erano i vinili, e si copiavano su grandi cassette, si duplicavano con la doppia velocità, e questo era il modo di far viaggiare la musica. Quindi è nata l'idea un po' di creare la band, ancora prima di se personale, nel senso che, sai come si fa da ragazzi, facciamo un gruppo, quindi il primo che compra il basso, poi si prova, non hai una batteria, e tutti questi problemi qua, che piano piano, un po' alla volta, da autodidatti, qualcuno studiando un po' con dei maestri di musica, si cerca di andare oltre i propri limiti e trovare il proprio linguaggio. E io credo che per me, se dico chi è Tommaso, credo che sia uno fortunato, perché è riuscito a trovare quel gruppo di amici che l'ha sempre motivato, c'è un gruppo, e penso io altrettanto di aver fatto con gli altri, nel senso che un gruppo è proprio come un gruppo di ciclisti, e quindi è chiaro che in certi momenti il vento contro tira molto forte, hai bisogno di uno che tiri l'andatura, e non è sempre lo stesso, perché è ovvio che il frontman, cioè quello che canta come Tommaso, è quello che sta più sotto i riflettori, però un gruppo invece è proprio fatto anche di tutti i gregari, di tutti quanti, quindi ci si alterna proprio a tagliare l'aria e aiutare magari chi è un po' più lento in quel momento nella vita, per tanti motivi, soprattutto quando appunto a 48 anni hai visto i tuoi genitori invecchiare, sono nati figli, hai mille faccende come i nostri coetanei, che tanto si sono nutriti della musica di perturbazione negli anni in cui avevano più a disposizione del tempo, adesso sicuramente come noi sono affaccendati soprattutto a vedere crescere i figli e a correre di dietro per dargli delle possibilità. Il nome Perturbazione da che nasce? Proprio da una gita scolastica in quegli anni, gli anni del liceo, mio fratello che aveva cinque anni, erano cinque anni più vecchi di me, ed era quello che era lo spacciatore di vinili, nel senso che la musica l'ha portata per primo lui, Enrico, mio fratellone, io ne ho due, e lui era quello più grande, e ci passava molti dischi e poi quelli li facevano girare, e vide una foto nostra al liceo che pioveva a Mantua, eravamo con quest'aria un po' emaciata sotto gli ombrelli, e così disse, se sembrate un gruppo rock dovete fare un gruppo rock, e come lo chiamiamo? Ah, Piove, Perturbazione, perché c'erano tanti gruppi punk, hardcore, di quegli anni della scena torinese, tipo in negazione, in contrazione, allora nacque un po' per parodia, perché facevano le canzoni per prendere in giro i professori, proprio delle robe, eravamo un po', degli schiantos wannabe, eravamo così, all'inizio eravamo un po' demenziali, invece poi piano piano è diventata una perturbazione dell'anima, cioè l'essere perturbati nel senso di essere inquieti, e quindi si è adattato piano piano il nome a noi, più che contrario. Il nuovo lavoro, passiamo subito, intanto prima cosa al nuovo lavoro, uscito nel momento, possiamo dire, non peggiore, comunque è un periodo abbastanza strano, e poi siete usciti con il CD e il vinile. Sì, disamore si chiama il titolo del disco, c'è una parentesi che è importante, perché quel dis sta tra due parentesi, proprio per indicare l'idea che per parlare dell'amore devi parlare anche del suo contrario, per parlare della luce devi avere l'ombra e così via, cioè devi avere due contrari per definire, e spesso nelle canzoni, soprattutto in luoghi comuni, diciamo attorno alle canzoni, sono proprio, si nutrono del fatto che devi veicolare un sentimento che ha un colore solo, come dire l'amore è tutto luminoso, sono giornate di sole, si canta la propria gioia, mentre poi si strilla il dolore nelle ballate, distruggimento, ecco. Noi abbiamo cercato attraverso un disco, è una storia, perché è un disco narrativo, a suo modo, quindi ha 23 capitoli, come una sorta di libro, di raccontare proprio tutte le fasi di una coppia, fino anche al disincanto, appunto al disamore, che non è esattamente qualcosa che può associare all'odio tanto attuale ai noi oggi nelle storie di cronaca purtroppo, ma invece il disamore è proprio qualcosa che devi un po' imparare a conviverci, perché fa parte un po' delle cose, il fatto di disincantarti un po', e però di imparare a camminare con quel disincanto, possibilmente in due, ecco. Il disco è uscito nel momento, se vogliamo, peggiore, giustamente anche tu eri dubbioso rispetto alla parola, io direi forse apparentemente non indicato, ma invece io credo più indicato che mai, nel senso che in un tempo di crisi tenersi tutto quanto in saccoce, aspettare che le cose vadano meglio, non credo che sia l'atteggiamento migliore, anzi, forse proprio il tempo in cui devi investire di più, buttarti, no, come si dice, gettare il cuore oltre all'ostacolo, e questo abbiamo fatto, non è uscito il 21 di marzo come pensavamo la scorsa primavera, perché eravamo in pieno lockdown, però abbiamo detto aspettiamo un minimo di finestra, dove qualcuno che possa voler cercare questo disco, e sì, anche in vinile, allora lo posso trovare anche nei negozi, e quindi il 29 maggio è uscito con una la bianca, che l'ha pubblicato, e sta facendo la sua strada, noi diciamo sempre che siamo un gruppo diesel, quindi andiamo piano piano, però senza fermarci mai, 23 canzoni sono tante, per cui è bello, io mi invento dei lyric video, delle cose qui a casa, li faccio un po' con mia figlia, adesso ne ho tanti altri in mente, quando è del tempo mi metto anche col telefono, o delle robe, e raccontiamo dei nuovi capitoli, abbiamo la fortuna in questo momento di avere il mondo anche della grafica, dell'illustrazione, del fumetto che ci sta aiutando ad aggiungere altri strati, ma questa insomma è un'altra storia. No, abbiamo visto un'aggiunta, due aggiunte, cose particolari, allora, una è il fumetto, e la seconda è la musica del cinema muto, due cose particolari, due cose diverse, due una da la parte. Sì, perché, con iperturbazione, forse, non so se questa cosa abbia, ci ha fatto bene dal punto di vista creativo, nel senso che quando uno tende a ripetere sempre la stessa cosa, forse chi lo sa, a livello di accessibilità del pubblico, forse è più istantaneo, come dire, cioè sei esattamente quel cappello lì, quella giacca, te la metti sempre prima o poi, la tua giacca nuova diventa, come diceva Paolo Conte, la consuetudine, ma invece, perturbazione un po' per ecletismo, anche un ecletismo un po', possiamo dire, un po' cazzaro, ecco così, che io ho abbastanza nell'animo, cioè la voglia di contaminare il proprio linguaggio, che è quello della musica, delle canzoni, con altre forme di espressione artistiche, ecco, questo ci ha sempre fatto incuriosire rispetto ad altri mondi, andare a cercare, e io credo che sia invece adesso anche una cosa sana, nel senso che poi la musica, rispetto ad altri anni, questo agli anni 60, 70, ancora gli 80, non è il baricentro delle cose, è qualcosa che gira attorno ad altri baricentri, la moda, il cibo, il cosiddetto, quello che chiamano food, si dice cibo, chiedo scusa, e questa, non so, noi cerchiamo di incontrare altre, altre forme di espressione artistica, attraverso collaborazioni, quindi è nata questa bella cosa, cioè la cosa del cinema mutuo è successa, negli anni passati, c'è successo di sonorizzare dei film, Muti, il primo maciste, che è quel personaggio che esce fuori dai film di Pastrone, di Cabiri, eccetera, e poi ne ha fatta tutta una serie, il museo del cinema ci chiese di sonorizzare quel film del 1916, e poi abbiamo sonorizzato un bellissimo film di Buster Keaton, che è The General, che è la storia di lui, appunto, durante la guerra di secessione, che va avanti e indietro con questa bellissima locomotiva, che si chiama The General, appunto, di tutte le sue avventure, Buster Keaton, il comico, insomma, quello con la faccia sempre seria, a cui succede di tutto, e rimane impassibile, no? Questa, che forse è uno spazio, appunto, è come se la sua faccia dicesse, colorami tu le emozioni attorno, attraverso le canzoni, le altre canzoni, la musica, poi la musica per il cinema, è una musica che è molto a servizio dell'immagine, non c'è più la parola, lì abbiamo fatto altro. E adesso, ultimamente, la prossima avventura, una cosa bella che ci è capitata, è proprio l'8 aprile, uscirà una, quella che adesso si chiama, una graphic novel, un romanzo a fumetti, che abbiamo scritto noi, abbiamo scereggiato, ha disegnato, un bellissimo disegnatore italiano, che si chiama Davide Auriglia, e siamo stati messi insieme dall'editore Baopublishing, che è un editore molto importante nel mondo dei fumetti, in questo momento in Italia, che abbiamo scoperto essere, insomma, fan dei perturbazioni, come dire, elementi dietro a Baopublishing, che sono Michele e Caterina, e ci hanno cercato, e ci hanno detto, mi piacerebbe provare a lavorare insieme. Ci siamo buttati, ci siamo divertiti, molto, perché io credo che fumetto e canzoni abbiano in comune, cioè, il scrivere dei dialoghi è molto diverso che scrivere il testo di una canzone, ovviamente sono due terreni differenti, però in comune nel fumetto cercano una forma di essenzialità, come dire, riuscire a trovare, a catturare in poche frasi che non siano banali e che restituiscano in qualche modo il quotidiano, ma che anche aggancino un cino di concretezza, diciamo così, che riesca a restituirti, però, metaforicamente, un mondo. e questa è una ricerca dell'essenziale che le immagini, ma anche i testi, eccetera, nel fumetto fanno molto. Quindi, questa avventura inizierà poi l'8 aprile, il fumetto si chiama Chi conosci davvero. La musica è l'espressione di una realtà vera o una realtà ipotetica? ma tu già me l'hai risposta. Io credo che non si possano distinguere le due cose, nel senso che penso che ci si debba nutrire di tantissimi stimoli. Innanzitutto le canzoni sono belle, perché nessuno di noi può scrivere la stessa. e questo è uno dei mali, forse, del nostro tempo, che attraverso i plug-in, attraverso i programmi, attraverso, forse, una certa forma di... si finisce un po' in certi stereotipi. Ecco, tende ad omologarsi molto il suono se usare certi strumenti tecnologici digitali ha facilizzato e democratizzato, come dire, il processo creativo, che non è un male, assolutamente, però bisogna sempre poi cercare di ricordarsi che è attraverso, la nostra firma, il fatto che siamo, come dire, ciascuno il sarto di se stesso, solo tu ti puoi cucire addosso la giacca veramente buona per te. Lo fai attraverso un lungo lavoro, ecco. Quindi ci si nutre di tantissimi stimoli diversi, tra cui la cosiddetta realtà, ma perché la raccontiamo in canzoni? Perché ci piace in qualche modo trasformarla. Forse qualcuno di noi scrive per cercare di descrivere il mondo che vorrebbe, qualcuno di noi invece cerca di criticarlo, di cambiarlo, qualcuno di noi lo fa semplicemente per il divertimento, per spassionatamente, come dire, l'intrattenimento che gli dà il fatto di scrivere. Ci sono tantissimi motivi diversi per cui si scrive e quindi tante fonti di ispirazioni diverse. Noi personalmente nel tempo ci siamo accorti che tendiamo a usare delle cose che magari la persona… Cioè abbiamo sempre, come dire, un orecchio sintonizzato su delle cose che possono esserti utili e lo fai particolarmente quando hai una storia in testa, sai che vuoi raccontare quella cosa lì. Penso all'ultimo disco di Isamore, penso a una canzone che si chiama Taxi Taxi, che è cantata dal punto di vista di un taxista che carica uno dei due protagonisti della storia. Sono lui e lei che, due ragazzi di 30-35 anni che hanno già avuto le loro storie, eccetera, si incontrano, si innamorano, sono probabilmente urbanizzati da qualche parte, forse nella grande provincia italiana oppure in una delle grandi città di questo nostro paese. A un certo punto la loro storia scivola e nello scivolare questo taxi, una sera lei esce e lui non è coinvolto. Lei sta facendo qualcosa che nella coppia creerà degli squilibri. Non sappiamo che cosa, ma il punto di vista è quello del taxista. Io ricordo il fatto di questa corsa dove siamo saliti con gli altri di aperturazione, questo taxista si mise a raccontarci com'era la vita notturna, i turni di notte dei taxisti, dicendo che molti taxisti rinunciano non solo per il pericolo, perché temono la rapina, ma perché è un tipo di vita. L'umanità che frequenta il taxi la notte è un'umanità che viaggia su binari diversi di quelli del quotidiano. Molto spesso tende a confessarsi o a lasciare sul sedile di dietro dei segreti che pensa poter rivelare, perché tutto sommato chissà quando rivedrà quel taxista. Il taxista diceva ma è sorprendente quando poi li ricarico e loro non si ricordano di me, ma io mi ricordo di loro. E diceva io tanto poi ti rivedo. Questa cosa qui è esattamente, te l'ho raccontata, perché sintetizza bene il modo in cui ci si va a nutrire di piccole cose che poi tu tagli, cuci, eccetera, e sono brandelli di vite che possono essere dei tuoi parenti, dei tuoi amici, ma anche alta letteratura come chiacchiera da bar. A volte nella musica ultimamente si stanno utilizzando 50.000 parole in una canzone, cioè testi così pesanti, cioè non per il fatto pesanti del senso che non sono comprensibili, che ci vogliono invilare 500 parole in una strofa dove poi dopo in realtà la canzone viene massacrata mentalmente. Sì, sono d'accordo con te. Allora, diciamo, l'accumulazione, che è un modo per raccontare una storia, può essere funzionale a un sentimento che vuoi restituire. Cioè, molto spesso facciamo un'enumerazione di cose, quindi siamo molto rapidi nel flow del cantante, eccetera, se vogliamo proprio restituire una complessità di elementi che magari fanno poi un insieme. Però è vero che invece molto spesso ultimamente sono concordo con testa, diventando più una sorta di palestra e di esibizionismo. Ecco, questa cosa qui non deve mai inficiare invece quella che nella ricerca di nuovo, rilacciandosi al discorso del fumetto, è un discorso di ricerca dell'essenziale, che è fondamentale. E io credo che rimanga sempre valida la lezione di Italo Calvino che non faceva le sue lezioni americane, che sono una delle cose più belle che si possono leggere sue, riferite alle canzoni, lo riferivo alla letteratura, ma è validissimo per le canzoni, bisogna cercare una forma di leggerezza. E questo vuol dire tante cose, vuol dire anche che rispetto a quello che hai scritto, che ti sembra così importante dire, molto spesso è per sottrazione che devi andare, devi imparare a sforbiciare via, lasciare cadere, finché non trovi la cosa giusta. Salire sul palco e avere davanti la platea, il quarto palco davanti, che salta, canta, ma soprattutto canta, diciamo stona le vostre canzoni, che emozione ti dà? Grande, grandissimo. Infatti non è un caso che questo Sanremo faccia una fatica bestia, perché senza il pubblico manca un elemento, cioè sembra banale dirlo, ma ogni concerto è diverso perché ogni pubblico è diverso. Il silenzio, la qualità del silenzio di un pubblico può essere assolutamente differente, ci può essere un silenzio raggelante, ci può essere un silenzio, anzi, i primi tempi quando sei giovane tendi ad associare il silenzio di un pubblico che magari ti sta ascoltando come una cosa che, come dire, oddio, non piacciono, non va bene, invece poi nel tempo impari proprio che c'è una qualità del silenzio del pubblico, ecco, e quindi quando il pubblico ha la fortuna, cioè soprattutto devo dire, a noi capire, ci siamo accorti soprattutto al sud, in Italia, noi siamo di Torino, quindi come dire, tutti con dei cognomi di famiglie del sud, tra la Puglia, la Campania, eccetera, però famiglie che sono presse, siamo cresciuti qua, ecco, quindi abbiamo questa cosa un po' sabauda, è un po', se vuoi, è un po' di rigidità, ecco, che è anche probabilmente rigore, anche essenzialità, però è anche una forma di rigidità, e quindi quando abbiamo suonato a Napoli o in Puglia, eccetera, cioè il fatto di sentire cantare tanto insieme è una cosa che dà un'energia pazzesca, anzi a Napoli cantano pure i temi della chitarra, del violoncello, cioè vuol dire, è una roba talmente di gioia che quando è successo è sempre stato bellissimo. Guarda, allora, perché, ovviamente si fanno domande assurde, eh, quando... Non ci sono domande assurde, non ci sono domande assurde. No, sai, guarda, allora, io ti faccio una domanda lunghissima, tenere un regime alimentare lo consigli a chi conosci davvero temporaneamente, ma poi offri il ragù che fai scappi in silenzio con il taxi taxi, o meglio, non farlo, non con la sindrome del criceto lasciarsi a metà e come lati inesorabili dare le spalle nell'abbraccio? Domanda bellissima, dove tu hai fatto stare dentro un sacco dei titoli di disamore ed è... io ti dovrei rispondere dicendo che la salvezza è sempre nelle nostre canzoni, ecco. In realtà, tra le varie domande, le varie interviste che hai fatto in passato, in cui fai, la domanda più frequente o soprattutto la domanda che in realtà quando te l'hanno posta in realtà hai fatto fisico il volto dicendo... Ma... Guarda, ma di solito la domanda progetti per il futuro mi fa fare abbastanza quella faccia lì perché se uno, insomma, è meglio raccontare quello che uno sta facendo in quel momento lì più che quello che farà, ecco. Cercare di vivere il presente. Farei probabilmente ancora la faccia rispetto alla mia vita poi privata, nel senso, non... ecco, vivendo, soprattutto usando tanti social o questo tipo di comunicazione, abbiamo fatto una scelta già tanti anni fa di tenere abbastanza celate quelle che sono le nostre le nostre vite private. Questo non vuol dire che non possano a volte... Cioè, ultimamente ho fatto un lyric video a casa con mia figlia Emma che ha 13 anni di Conta su di me, una delle canzoni del disco perché lei quando guarda la televisione, eccetera, sta sempre a fare lettering, usa i pennarelli con la punta pennello, si esercita molto, le piace ed è diventata sempre più brava. Allora, vedendo questa cosa mi è venuto in mente che potevamo raccontare il test della canzone attraverso tante forme di lettering diverso per restituire un po' l'emozione che c'era in ogni verso attraverso un carattere, un font diverso. E lei ci ha divertiti molto a fare questa cosa e io sto dicendo che l'ha fatto lei, ne sto parlando anche perché poi l'ho corrotta promettendo una fornitura a vita di pennarelli e brush e quindi ho dovuto poi andare a bellearti con lei, investire molto. Mi hanno accusato di sfruttamento dei minori, quindi... No, però in generale invece questa ossessione contemporanea di raccontare la propria quotidianità, il piatto di pasta che ti sei cucinato quel giorno, cioè c'è una sorta di un po' pornografia rispetto al quotidiano che tendiamo ad avere adesso nella comunicazione. questa cosa qui se mi fanno delle domande troppo tarate su qualcosa poi di molto triviale, un po' gretto, cioè il quotidiano nostro è bello, secondo me, è prezioso quando è privato. La canzone racconta quella cosa lì attraverso metafora e lo trasmuta in qualcosa che ci deve consentire a tutti di identificarci in quella canzone, non soltanto a chi ha quella stanza, ci sono tante stanze che si incontrano in una stanza metaforica comune, ecco, e questo è il bello dell'espressione artistica. Quindi non vedo perché invece dovremmo raccontare delle cose che poi diventano di una banalità estrema, ma solo perché vivono dell'istante in cui vengono postate, comunicate, allora dovrebbero avere ricchezza. Noi credo che si debbano far decantare le cose, bisogna riflettere, bisogna filtrare, bisogna tagliare, bisogna editare e poi dopo cercare di fare qualcosa di prezioso. Allora, citando un cantante abbastanza giovane, Don Guibop, Alice Cooper, diciamo, ci fai saluti? Quando è Alice? Sì, sì, volentieri, io vi mando i saluti da Torino e dai perturbazioni, un po' divisi e ogni tanto insieme a seconda della possibilità che da questo momento la musica è un modo per incontrarsi anche in tempi così difficili dove ci manca così tanto un abbraccio collettivo e poi l'abbraccio proprio degli amici, ecco, quindi forse le canzoni ce li possono portare un po' e speriamo che qualche canzone magari dei perturbazioni vi possa regalare questo abbraccio. Studio 7 in collaborazione con Sport Epiceno e Epiceno Game presenta l'intervista di Pietro Buonasera, la perturbazione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!